Nel nostro telegiornale Cristian Fanesi parlando della variante di Gimarra ha dichiarato che lei fino a qualche mese fa sosteneva il progetto votando anche tutti gli atti portati in Consiglio Comunale. Marcheggiani è corretto? Qual è stata in questi anni la sua posizione? Fanesi continua a fare un po' di confusione ed è bene chiarirsi. Io sono sempre stato a favore di una progettualità e di una preventivazione a fronte di 20 milioni di euro di una strada che terminasse degnamente l'interquartiere e collegasse Gimarra con il resto della città e con l'Adriatica. Quindi non c'è nulla da contrapporre a quanto io ho fatto con grande trasparenza in passato in Consiglio Comunale. Io ho fatto una cosa però, quando è arrivato il progetto che doveva essere sul primo tracciato con un difetto di 15 milioni di euro di preventivazione ho detto che era un forte problema, una grande superficialità. Poi ho appoggiato anche il tentativo di una variante rispetto a quel tracciato costosissimo che è stata presentata fuori tempo massimo, ma fin lì ci potevo arrivare come progettualità anche se non era la mia opzione. Ci sono arrivato in Consiglio, io ho votato contro però un appalto al buio dei lavori, rischiosissimo, perché, i telespettatori adesso un attimo di pazienza, se un progetto è esecutivo, fatto da un'amministrazione pubblica, è preventivato, si sa di che morte e morire. Cioè quanti soldi costerà un'opera grande come quella. Se invece si affida una ditta che vince una gara esplorativa, il progetto esecutivo e il preventivo, noi non avremmo mai saputo e non sappiamo ancora quanto poteva costare questa strada, esponendo il Comune a un rischio di default economico, perché se la strada invece di 25 milioni di euro fosse costata 30-35 milioni di euro, chi avrebbe pagato? E io ho votato contro in Consiglio Comunale. Ho votato anche per eliminare questa previsione che taglia ormai a tempo scaduto, a proroga scaduta, il parco della trave, perché ci sono modi adesso per ripensare la questione, visto che nel 2025 sarà realizzato il casellino di Fenile e quindi verifichiamo un attimo l'alleggerimento sull'Adriatica. E poi mi dispiace molto, perché in mia assenza si è fatto il mio nome senza diritto di contraddittorio, ma non si deve scandalizzare se io esterno ancora dopo due anni e mezzo, perché nel novembre 2021 io ho detto subito che era un'occasione perduta e un grave scacco questo qui, per una certa incapacità progettuale, e anche una certa intempestività, scadute tutte le proroghe. L'ho detto, l'ho pubblicato sul resto del Carlino, in questa trasmissione a occhio ai giornali si può ritrovare il video e l'audio, per cui è sconcertante perdere 20 milioni di euro. Ma lo disse anche il Partito Democratico, nell'allora segretario comunale e nell'allora capogruppo Giacomoni, che chiesero all'assessore di traga le conseguenze, cioè gli chiesero le dimissioni.